il leader della lega contesta la decisione del governo di lasciare alle 22 fino al 31 luglio il limite massimo per il rientro a casa se non basta puntare i piedi bisogna trovare un altro grimaldello non sono sufficienti le proteste e gli avvertimenti alla maggioranza e all'esecutivo ecco allora perché non puntare su altro e tentare la carta della cultura deve aver pensato così il leader della lega matteo salvini se oggi per convincere il governo draghi a rivedere la decisione di non modificare l'orario del coprifuoco nel decreto riaperture ha tirato in ballo l'arena di verona il carroccio così come i presidenti di regione vorrebbe che l'esecutivo spostasse di un ore il limite per il rientro a casa dalle 22 alle 23 scelta che però draghi non condivide folle mettere a rischio la stagione estiva dell'arena di verona impossibile da pianificare con il coprifuoco alle 22 fino a luglio e un limite a mille per gli spettatori come previsto dal decreto di ieri che anche per questo la lega non ha votato scrive salvini su twitter immediata la replica stizzita del ministro della cultura dario franceschini anche se non ha fatto votare il decreto dai suoi ministri ha attaccato il dem salvini potrebbe almeno farselo spiegare scoprirebbe che una norma prevede come lo scorso anno la possibilità di derogare al limite massimo di mille spettatori all'aperto con decisione della conferenza delle regioni quindi conclude franceschini come lo scorso anno l'arena potrà avere la deroga su iniziativa della regione veneto grazie 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 a tutti.